Prosegue con successo la stagione teatrale della Compagnia Ionica, che festeggia i 40 anni di attività. Il cartellone è giunto a un nuovo spettacolo, che avrà luogo stasera e domani alle ore 17.30 e alle 20.30 presso il Teatro Rex di Giarre. La lettera di mamma è il titolo della farsa in due atti firmata da Peppino De Filippo, che negli anni 30 del Novecento la portava in scena insieme al fratello Edoardo. Pochi forse lo conoscono dal punto di vista dello scrittore, perché lui ha scritto diverse commedie. Questa è solamente una di quelle che sono tra le più conosciute, le più note. È un testo molto bello. Ricordando Peppino De Filippo, comico e caratterista, uno pensa che le sue scritture siano delle cose, delle farse. In realtà invece non è così, perché lui ci mette molto romanticismo, riesce a creare dei lavori che hanno una tematica molto attuale per l'epoca. Oggi, probabilmente un po' meno, tant'è vero che ogni commedia che si fa di questo genere bisogna rispettare i tempi, perché riportarla al periodo attuale non sarebbe logico. Però in quel momento sicuramente era un testo bellissimo. La commedia, diretta per l'occasione da Matteo Favara, presenta una storia che rispecchia la realtà del tempo, in cui sono contrapposte una famiglia di commercianti, ignorante e arricchita, e una di baroni ormai decaduti, entrambe desiderose di combinare un doppio matrimonio di interesse, chi per ottenere titoli nobiliari e chi per tornare ad assaporare la giatezza di un tempo. La comicità dello spettacolo non deriva tanto dai personaggi o dalle situazioni, quanto dalla lettera della defunta madre del giovane barone, che creerà non pochi equivoci nel corso dello spettacolo, anche se non mancheranno nemmeno spunti di riflessione. Noi sappiamo che in quel periodo quella che si prendeva di mira era più che altro la nobiltà, la borghesia, medio-alta borghesia. Per vivere vendevano tutto quello che avevano, tranne quelli che erano molto ricchi, e cercavano di creare questi matrimoni, con i borghesi, quelli che siano arricchiti, i ricchi commercianti. Questo personaggio, questo barone, cerca appunto di sistemare il proprio nipote facendo sposare con la figlia di un ricco, ricchissimo commerciante. Anche lui però ha trovato come abbinare il suo matrimonio, perché c'è una zia di questa ragazza che è ancora nupile, il motivo c'è, perché si creano sempre questi personaggi un po' bruttarella, però lui non gliene frega niente, diceva intanto mi sposo e mi sistemo. Quindi crea anche quest'altro matrimonio. Poi chiaramente ci sono tanti equivoci, tante cose all'interno, perché è anche divertente.